segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è arrivata una macchina dietro di te voglio vedere e vai a vedere se magari un parente di montesano non lo so che sta andando semplicemente a destra e montesano avevamo scambiata per montesano non ci avrà nemmeno non ci avrà nemmeno 30 anni sto ragazzo scusami no no non è lui no perché non vorrei mai che tu non vorrei mai non vorrei mai che tu per parlare con me ti perdessi l'arrivo di montesano no in realtà tu vedi solo me che per carità capisco che già prendo lo schermo però siamo attrezzati non sono da solo siamo attrezzati per controllare anche gli altri lati della strada abbiamo anche degli informatori che potrebbero darci delle informazioni va bene a breve